Va Viviani, ferma Reina e pareggio Spal al 78esimo ha colpito Federico Viviani. Soluzione splendida da parte del giocatore di scuola Roma. Primo gol in questa stagione, sono sei in Serie A Team, non ha nemmeno accennato l'intervento Pepe Reina, da rivedere il tutto impazzisce Almazza, era in crash la partita di Viviani.